Quante ghiaccio? No, adesso domani non vediamo Ma per adesso ci va bene Domani quando vediamo Vado domani, vado forno Ti potrebbe dare una testata Oggi c'erano un 50 mm tra lei e tu e Barbara che erano abbastanza Sì, sì Sì Per il punto sulla lettura Ah Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.